Ci spostiamo a Bari per la presentazione di una iniziativa che tende a promuovere la regione Puglia. Nichi Vendola, Dario Stefano, Luca Telese e alcuni giovani imprenditori pugliesi hanno raccontato la Puglia in più. Una regione che si impegna a continuare a sostenere i giovani, la loro formazione e la creazione di occasioni di lavoro. Una Puglia hanno dichiarato che sa innovare in tutti i settori in grado di rilanciare il sistema di imprese e innalzare la qualità della vita di tutti i cittadini che vuole continuare ad essere riferimento per il Sud ma anche interlocutrice del Nord che non ha paura di guardare al futuro perché è tornata ad essere orgogliosa delle sue radici e della sua identità. Vogliamo farlo con una chiave diversa, non in senso autoreferenziale ma raccontando quello che è stato fatto e cercando di capire come fare a completare un percorso che guardi a più diritti, più lavoro, più occupazione, continuando sulla strada dell'innovazione non più e solo in senso legislativo ma anche in senso organizzativo. Oggi parte un percorso attraverso il quale noi vogliamo rendere evidente qual è stato il lavoro fatto in Puglia al quale abbiamo dato un contributo come movimento e sul quale vogliamo continuare ad essere protagonisti. Noi rivendichiamo la diversità di un'esperienza come quella del laboratorio pugliese, rivendichiamo cioè di aver costruito politiche pubbliche che avevano lo sguardo quotidianamente sulla vita dei giovani, sul loro orizzonte produttivo, sui loro diritti di formazione. Credo che raccontare il laboratorio pugliese, quella regione che ha saputo spendere bene le risorse comunitarie per dare una chance di futuro alle giovani generazioni, raccontare la Puglia che ha saputo curare le ferite, per esempio, di un sistema economico in affanno, le ferite anche di una arretratezza dal punto di vista delle infrastrutture sociali. Insomma, noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e naturalmente non siamo soddisfatti del cammino compiuto. Vogliamo caricare il nostro cuore di nuova passione per raggiungere nuovi traguardi.